Ben otto stanze Emanuele quest'anno mostra del presepe Bagnoli del Trigno in ogni stanza tante caratterizzazioni ma soprattutto tipicità anche del vostro territorio come sono state realizzate ma soprattutto quante persone di voi si sono adoperate per farlo? Allora sì, lo staff si è diviso come in ogni iniziativa in diverse generazioni partendo da noi ragazzi, per lo più studenti che vengono nel pomeriggio ad aiutare e persone anziane che hanno magari a disposizione anche più tempo nelle giornate accompagnati poi anche da persone diciamo di mezza età Questa sinergia ha permesso una realizzazione interna nelle stanze con numerosi dettagli ad esempio per le casette diciamo compito delle signore e poi lavori un po' più complessi quindi da ragazzi a adulti per quanto riguarda il rivestimento con la carta roccia l'impianto elettrico, l'impianto audio che manda la musica natalizia in questi giorni e diverse altre realizzazioni più complesse anche per quanto riguarda la gestione degli animali Ecco Emanuele, alle nostre spalle abbiamo la Natività che poi è un po' la chiusura di questo bellissimo presepe quest'anno come l'avete realizzato e qual era l'idea? Allora sì, ogni anno la Natività caratterizza l'intero presepe perché è appunto il punto nevralgico della nostra realizzazione quest'anno siamo tornati sulla capanna l'anno scorso abbiamo fatto lo stacco di una grotta ogni anno la modifichiamo proprio perché è la parte più importante una stalla semplice quindi il legno con elementi che la caratterizzano rappresentando i personaggi fondamentali della Natività quindi Maria, Giuseppe, il bambino, il bue e l'asinello e poi i magi che arrivano piano piano verso la capanna e il pastore che sta a simbolizzare tutti gli altri pastori che sono richiamati dall'angelo Ed eccoci con Frango e Angelino ho due collaboratori che hanno sicuramente dato la loro professionalità e l'esperienza, vero? Eh, insomma Un po' di esperienza ce l'avete messa? L'età, direttamente c'è l'esperienza L'esperienza è quella poi che arricchisce di contenuti Tante cose, poi ci sono ricordi, ricordi da bambino Da quando andavo a scuola io E c'era, se faceva il presepe Andavo già allora per il muschio, per la campagna e tutto E poi mi ricordo che c'era una poesia Allora c'era la guerra Quando andavo a scuola io C'era una poesia intestata proprio a Natale di guerra Eh, se vuole la dico È lunga? Eh, no È corta? È corta Ce la dica Allora cominciava così A malapena che si aveva fatto i urni Un po' di luce è entrata nella stalla E il bambinello si è svegliato E si è guardato a torno Comincia a dire Mamma mia che freddo E chi mi consola? Mamma mia che freddo E chi mi riscalla? E la mamma gli dice Figlio, la legna si è finita È diventata cara C'è la guerra E non ti chiuso il soldo per cattarla Eh, dice il bambinello E l'osinile mio è andato finita Eh, l'osinile mio è stato requisito Mossa è messa la battaglia Trasporta la mitraglia E arrivava E arrivava pure qui L'estate è finita la macchina Ah Ma i rimaggi arriveranno Eh, no figlio È impossibile Perché non c'è la stella che la accompagna Perché la stella ha avuto paura di uscire Ha avuto paura di qualche dirigibile Ah Figlio, la senti? La senti al di giù la battaglia? La senti la mitraglia? La senti che il cannone? Che Dio ci scampa? Che ci rovinano i campi? La mamma del signore Dice tutte le parole Puglietta il bambinello Essere trignate ancora E sta sciogando le lacrime con le fasce Una lacrima dolce Per chi muore E una lacrima amare Per chi nasce Buon Natale Bene signor Franco Dopo la poesia e gli auguri del signor Angelino A questo punto anche un augurio da parte sua Non solo a tutti i nostri telespettatori Ma anche alle nuove generazioni Che si sono davvero Come dire Organizzate Magnificamente Per rendere questo presepe ancora più Magico Tanti tanti auguri a tutta la popolazione di Bagnoli Del Molise Speriamo che le cose cambino un pochettino Perché sinceramente in questo momento Non è che le cose vanno molto bene Perciò auguri a tutti quanti Ed eccoci ancora con altri piccoli protagonisti Di questa edizione del presepe vivente di Bagnoli del Trigno Allora tu come ti chiami? Rino Rino quanti anni hai? Sei Sei anni Senti ma sei pronto? Sì Un po' così va in scena Sì Chi ti ha preparato per questa parte? Da solo Da solo Tutto da solo Bisogna ringraziare qualche maestra Qualche preparatrice Vediamo Lei sicuramente è preparata Tu come ti chiami? Aurora Quanti anni hai? Sette Tu cos'hai in mano? Cosa c'è scritto sul tuo foglio? Sede Sai il significato di questo? Te l'hanno spiegato le maestre? La fede Verso Gesù Sì Esatto Brava Poi tu invece come ti chiami? Mattias Quanti anni hai? Sette Ti sei divertito a Diciamo interpretare la parte dell'angelo? Sì E qui invece abbiamo il tuo nome? Daniele Quanti anni hai? Nove Hai scelto tu di fare il frate? Sì Bravi Insomma tutti consapevoli Molto bene Eccoci qui con un bellissimo cartello con su scritto verità E allora a tenerlo fortemente è? Kamala Kamala tu quanti anni hai? Dieci Sei di Bagnoli? Sì Molto bene accanto a te abbiamo altri due fraticelli Davvero benissimo nella parte Siete proprio tagliati per questo ruolo Come vi chiamate tu? Leonardo E tu? Lorenzo Siete emozionati? Mh Sì? Sì Ebbene eccoci qui ancora con altri piccoli frati e altri angeli bellissimi Allora tu come ti chiami? Diletta Quanti anni hai? Quattro Quattro anni complimenti Ti sta proprio bene questo saio lo sai? Sì Sei pronta per iniziare? Sì Bravissima Tu come ti chiami? Dias Quanti anni hai? Tre Tre anni Poi abbiamo qui? Donato Tu quanti anni hai? Sei Sei anni Invece tu sei? Giovanni Giovanni facci vedere cosa hai in mano tu invece Luce Che bello Quindi tu interpreti l'angelo È un ruolo che ti si addice secondo te? Hai stato bravo anche tu quest'anno? Sì Molto bene Invece qui abbiamo Gioia Non perché ti chiami Gioia ma Come ti chiami? Melissa Melissa quanti anni hai? Nove Nove anni E invece accanto a te c'è? Alessandro Alessandro tu quanti anni hai? Otto Otto anni anche tu interpreti questa parte e tra poco si andrà in scena Siete emozionati? Sì Come ti chiami? Gioia Gioia quanti anni hai? Quattro e mezzo Quattro e mezzo? Ma tu sei pronta per uscire fuori e far vedere come sei preparata per questa parte? Sì Benissimo Invece qui dietro abbiamo? Sara Quanti anni hai Sara? Sette Molto bene Allora in compagnia di questi bellissimi bambini che tra poco appunto usciranno in una piccola Come se vogliamo una piccola processione che apre il presepe di questa edizione di Bagnoli del Trigno Insieme a tutti loro vi facciamo gli auguri di buone feste Bambini siete pronti? Sì E allora diciamo insieme buon Natale ai nostri amici telespettatori Via! Buon Natale!